Sono 380 le firme raccolte per la petizione sulla riattivazione della postazione del 118 con medico in presenza a Montenero di Bisaccia. È questo il bilancio finale della raccolta firme lanciata da Nicola Palombo e Giulia D'Antonio, consiglieri comunali del centro molisano. Infatti, dal 1 giugno, a causa della carenza di medici 118, la postazione di Montenero è stata demedicalizzata e attualmente prevede solo un infermiere e un soccorritore nelle ore notturne. Le firme sono già state protocollate in regione e i firmatari chiedono una risposta entro 60 giorni. Adesso la questione è all'attenzione del Consiglio regionale, dell'Aggiunta Roberti, del Prefetto di Campobasso, del Direttore generale dell'ASREM, dei Commissari alla Sanità e dei Parlamentari molisani. A sottolineare l'importanza dell'iniziativa che ha visto i cittadini di Montenero di Bisaccia mobilitarsi in massa, il consigliere Palombo, che l'ha definita una bella pagina di attivismo civico. Ad oggi, la questione della demedicalizzazione a Montenero è stata ampiamente discussa, ma ancora non è stata trovata una soluzione.